Almeno per il momento non sembrano esserci più margini perché la trattativa per l'accessione del Foggia al gruppo di imprenditori capeggiato da Antonio Salandra possa andare in porto. Non solo, le ultime parole espresse sembrerebbero destinate ad interrompere del tutto qualsiasi forma di dialogo. Offerta offensiva ed irricevibile, la francobollata così, Nicola Canonico. Ieri sera con una nota è stato invece Antonio Salandra a dire la sua. L'offerta recapitata come preciso scopo, quello di azzerare i debiti del Foggia relativi alla gestione canonico. Lo stesso Canonico, quando avrà risolto il contenzioso con la Pintus e pagato i debiti della sua gestione, potrà invitarci a scuola di serietà. Ha argomentato invece il capo della cordata di imprenditori che si è detta interessata a rilevare il Foggia. Veleno sulla coda, insomma, di una trattativa che sembra sia destinata a stopparsi sul nascere. Ed ora cosa accadrà? Ad andare avanti sarà Nicola Canonico, chiamato però ad accelerare per programmare la nuova stagione. Il Foggia deve scegliere in primis un allenatore e già a stretto giro potrebbero esserci novità in tal senso. Grazie.